La presidente dell'Appi, associazione titolare di posti barca del porto turistico d'Imperia, Maria Sorbo, rompe il patto del silenzio ciclato con Goimperia per non compromettere la delicata situazione del bacino e punta il dito contro sindaco e amministrazione comunale. La presidente Sorbo contesta infatti al comune di aver mancato l'obiettivo dell'acquisto della Porto, dalla curatela fallimentare della Porto Spa e solleva il pesante dubbio che nessuno sia disposto a finanziare tal acquisto con 7,5 milioni di euro necessari. La Sorbo sottolinea che i titolari di posti barca sono indignati e si chiedono per quanto ancora l'amministrazione comunale continuerà a spacciare per vittorie quelle che secondo lei in realtà sono sconfitte, ricordando che gli stessi titolari di ormeggio sono gli unici ad aver pagato per la costruzione del bacino e oggi vengono raggiunti da lettere di diffida da parte della Goimperia al fine di ottenere pagamenti per servizi non fruiti. La presidente dell'appi Maria Sorbo infine accusa Comune Goimperia di aver voluto aggravare il contenzioso sul porto invece di cercare degli accordi dando lavoro ad avvocati e tribunali e annuncia quindi l'intenzione di chiedere alla regione di revogare la delega sulla gestione portuale al Comune d'Imperia per reiterate inadempienze.